Siamo alla centrale elettrica di Vojany, dove i nostri partner di Samaritan International, Samaritan Slovacchia, hanno allestito un campo di transito per profughi con il supporto della rete internazionale Samaritan International. Noi siamo venuti qua in questi giorni a portare qua del materiale. L'obiettivo è quello di realizzare un percorso di separazione per i positivi covid, in modo che possano avere il loro luogo dove dormire per risolvere questo problema. Tra queste cose abbiamo portato la giocheria perché ci sono molti bambini, sono quasi tutti bambini, mamme e nonne che arrivano in questo campo e che poi passano da qui nella speranza insomma di dargli qualche momento di tranquillità. Oggi abbiamo scaricato il materiale, sono arrivate quindi le attrezzature, le abbiamo posizionate insieme alla Coce Bianca di Bolzano che è con noi e domani provvederemo poi al collegamento dei moduli bagno, al montaggio delle tende e al dispiegamento della giocheria.